E' stata l'ultima tappa del giro di presentazioni siciliane del suo libro Sottosopra. Il sottosegretario di Stato, Davide Faraone, ha voluto chiudere gli appuntamenti culturali con i suoi una domenica mattina di maggio in una sala piena a metà. Ad intervistare Faraone, una delle penne più autorevoli della regione, Salvo Toscano, notista politico, direttore di I Love Sicilia, caporedattore di Live Sicilia, con il suo stile pungente e con le sue domande franche. Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione, è uno dei papabili candidati alla presidenza della regione. Ieri un endorsement della ministra Boschi sulla sua presunta candidatura a governatore della Sicilia. Qual è la sua opinione a caldo? Fa piacere, Maria Elena è un'amica con cui lavoro costantemente fianco a fianco e per aver espresso quei giudizi così illusinghieri direi una bugia se non dicessi che è una cosa che mi ha fatto piacere. Naturalmente la visita di Maria Elena è stata una visita legata al referendum e all'importanza di un sì a quel referendum per cambiare l'Italia. Il suo libro che si intitola Sottosopra, è un libro che racconta anche di quello che è stato e di ciò che potrà essere. Vale ancora la rottamazione per voi renziani? Ma in Sicilia non l'abbiamo neanche iniziata, per cui c'è un problema che non riguarda soltanto le classi dirigenti, quello è un tema di rinnovamento che esiste, esiste anche nella burocrazia, esiste nei settori più strategici di questa regione, siamo ancora, comandano tutti quelli che hanno comandato tanti anni fa, ma il tema della rottamazione non riguarda soltanto gli uomini, ma riguarda anche i temi, gli argomenti. Noi continuiamo a governare questa regione come se fosse quella che ha bisogno ancora oggi di assistenzialismo, di trasferimenti pubblici, noi crediamo che bisogna completamente cambiare l'impostazione e cercare di mettere in campo azioni che spingano nuove generazioni a guidare anche da un punto di vista economico e sociale questa regione.